Ricordo quando fermavamo le persone per strada, per scattarle e farci raccontare il loro stile. Quasi nessuno voleva farlo. In tanti ci ridevano dietro, non molti credevano in noi. Ma oggi le cose sono nettamente cambiate. Sono Vincenzo, uno dei fondatori di NSS e il suo direttore creativo. Questo è il nostro studio, la nostra base operativa. È il luogo dove tengo le mie più care piante. Oltre alla strada qui amo scattare i miei progetti e per farlo cerco sempre strumenti e tecniche diverse. Mi piace sperimentare, avendo un approccio un po' analogico. Però la ricerca delle nuove tecnologie è quello che mi stimola di più. Trovare sempre modi nuovi per dare sfogo alla mia immaginazione è ciò che spinge la mia creatività.